Decine e decine di ragazzi di terza media in cerca della scuola superiore più adatta per il loro futuro. Giornata di orientamento scolastico a Villa Bertelli, dove per la prima volta si sono riuniti in una sola occasione tutti gli istituti secondari della Versilia. Nuove in tutto le scuole che hanno presentato la loro offerta formativa agli alunni dell'istituto comprensivo Forte Marmino. Un format del tutto simile a quello dell'orientamento universitario, ma declinato per i tredicenni, che si trovano a compiere una scelta molto importante, talvolta determinante per il loro percorso di studi. Un'età molto difficile questa dei ragazzini, in cui devono compiere delle scelte importanti. Venivano fatti degli orientamenti sull'università, però secondo me, secondo noi dell'amministrazione, era giusto fargli capire già da piccolini quali potessero essere sviluppi futuri della loro vita. Al piano superiore in due sale vengono fatte delle proiezioni, vengono spiegati i programmi scolastici di ogni scuola. Un esperimento che sembra aver convinto ragazzi e insegnanti e che si apre adesso a nuove prospettive. Questo è stato un inizio di un cammino che insieme al consigliere alle politiche giovanili Alberto Mattugini abbiamo voluto fortemente. Stiamo pensando per il prossimo anno di coinvolgere addirittura le seconde medie attraverso uno psicologo che ha gli strumenti per tirar fuori le attitudini dei ragazzi. Per noi è importantissimo che i ragazzi abbiano gli strumenti giusti per poter fare delle scelte che riguardano il loro futuro.